E' raro ascoltare sistemi da pavimento di altissimo profilo, ed è ancora più raro che accada all'interno di un sistema di pari livello con un posizionamento eccellente e in un ambiente perfetto. Queste sono le GIA G3 Series 2, un quattro vie con cinque altoparlanti frutto dell'ingegno di Lawrence Dickey, già progettista per vent'anni presso B&W e padre delle Nautilus, della tecnologia Matrix e di tante altre intuizioni che hanno rivoluzionato il settore dell'elettroacustica. Abbiamo ascoltato le G3 all'interno della strevitosa sala d'ascolto di Hi-Fi Roma Store, dove il nostro ospite Igor Fiorini ha messo a punto con cura quasi maniacale un sistema di riferimento assoluto. Come sorgente, Igor ha scelto il trio NADAC di Merging Technologies con player, clock e alimentazione separata, tutto controllato con Rune. A pilotare le GIA G3 due prodotti di riferimento assoluto, il pre-dual mono CH Precision L1 e l'ampli stereofonico, sempre CH Precision A1.5, il primo al mondo con modifica della contro-reazione da parte dell'utente finale in tempo reale. Il risultato è straordinario, sia per neutralità timbrica, per estensione in frequenza, per dinamica e soprattutto per pulizia e assenza di distorsione. Le GIA G3 sono in dimostrazione permanente presso Hi-Fi Roma Store. Tutte le informazioni le trovate in descrizione. Grazie a tutti.